Cari lettori e lettrici, la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo di narrativa contemporanea, una profonda esplorazione della natura umana, dei suoi conflitti e delle sue ombre, offrendo al lettore una panoramica avvincente e coinvolgente di un microcosmo sociale che riflette in modo universale sulle dinamiche umane. La trama del libro Storie dell'orrore, dello scrittore Peter Nadas, pubblicato dalla casa editrice La nave di Teseo, è la seguente. La vita di un villaggio ungherese sulle rive del Danubio negli anni Sessanta potrebbe sembrare, a prima vista, semplice e idilliaca nella sua tranquillità bucolica, ma la realtà è molto più complessa. In questo romanzo Peter Nadas, con un linguaggio potente e a più voci, racconta la storia di un piccolo paese senza nome, e quella dei suoi abitanti, ci sono i contadini e i braccianti, il prete cattolico e il pastore protestante, il maestro, una ragazza con un handicap mentale e una forza incredibile, una donna che ha perso l'onore e combatte con i pregiudizi e l'odio dei paesani, un fornaio posseduto dal demonio, aristocratici decaduti in vacanza, un giovane intelligente e sensibile, costretto su una sedia a rotelle, innamorato della bella ragazza di città e futura insegnante. Sotto la superficie più o meno limpida di questo fiume di vita, scorrono correnti subdole, che trascinano a fondo chi ne rimane vittima, cambiandolo per sempre. Nelle menti degli abitanti non fanno altro che muoversi e intrecciarsi emozioni romantiche e istinti animaleschi, bisogni inquietanti ma insopprimibili, e desideri agghiaccianti. È solo questione di tempo prima che l'enorme, impetuoso e sinistro flusso di emozioni che si viene a creare tra le strade e le case si trasformi in un'onda selvaggia di violenza che stravolgerà completamente le sorti del villaggio. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato, se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.